Un po' storta. L'importante è creare le occasioni, perché poi se fosse stata una partita dove non avremmo creato niente, sarebbe stato peggio. Quindi dobbiamo prendere quello di buono che abbiamo fatto in queste tre partite e sapere che dobbiamo e possiamo fare di più. Ecco, fare di più in cosa consiste a questo punto? In tutto, perché abbiamo un baggi di miglioramento importante, sia sul fatto della gestione della partita, della partita e della finalizzazione. Tu dal punto di vista personale sei soddisfatto di questo inizio in bianco scudato? Sì, assolutamente sono soddisfatto. È chiaro che manca il risultato che poi alla fine non conta tanto il siglo, ma in questo momento conta quello che fa la squadra. A livello di occasione creata, davvero, ne contiamo le tre partite un bel po'. Il peccato non è stato finalizzato, quindi manca solo la vittoria. Però dobbiamo, come ho detto, prendere di buono quello che abbiamo fatto e lavorare su quello che possiamo migliorare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Come stai? Ciao. Diciamo questa cittadina. Sono spattato lì, no? Ok. Manuel, vieni, faccio il nostro indirizzo. Spatta vivo.